eccomi qua ragazzi bentornati qua in questo nuovo test mode scusate se in questo periodo non ne ho fatti ma semplicemente ho avuto problemi avevo dovuto fare il lavoro ho avuto problematiche varie partner microfono rotto cuffie rotto insomma ho avuto una mara di rogne e ancora adesso ci sono alcune cose che purtroppo non posso sistemare e mi fanno un po bestemmiare perché era tutto quanto un pochettino brutto ecco comunque venne ho parlato in un video apposta che invita a dare un'occhiata per sapere cosa cavolo è successo tutti quanti eroni che ho avuto fine d'ora così da avere un'idea di cosa significhi a volte dover perdere tempo per delle cazzate che non ti vengono nemmeno il motivo poi vabbè ho dato anche una mia opinione sul modo contest purtroppo neanche quello sono riuscito a fare perché ho avuto queste erone qua quindi ho dovuto sapere tutto quanto poi avendo anche poco tempo dovuto dedicarmi a sistemare i miglioranti e fare la mia serie quindi tra l'asato le robe diciamo più tra virgolette diciamo non importanti ecco guardato un'opinione anche su quello lì invito a guardarvi in cui parlo anche delle c class e loro oggi sono qui questo video per parlarvi come avete visto anche a trotto vi ho presentato dei biogas posizionabili da di varie diciamo invece di varie produzioni ecco varie fasce di produzione in kilowatt o megawatt o megawatt no megawatt sì insomma oggi sono a presentarvi una modo che promette di creare un biogas personalizzato come volete voi scegliendo tra varie trincee varie tramogge tante altre cose oppure potete anche avere dei mini impiantini oppure anche degli impianti mega enormi che vi costano una fracassata di soldi ma che comunque poi vi producono un bel po di soldi che come se vi vengono dati a mezzanotte poi ci sono alcune componenti che vi prometto di guadagnare soldi ogni tot ora prima di tutto partiamo dalla parte centrale di biogas cioè le trincee senza di quelle non potete fare assolutamente nulla avete vari tipi di trincee avete questa qua singola con della terra attorno doppia piccola 20 metri senza niente solo cemento 40 metri singola doppia con terra oppure singola doppia col cemento e a mettere magari questa acqua acqua mettiamola così che è più o meno qua dai posiziona bravo poi mettiamo l'altra mogia che è quella che serve per appunto buttare introdisciato fermentato e far sì che il processo inizi e tante valite pulizie avete 30.000 litri 120.000 litri 120.000 litri con deve essere questo qua penso per rompere credo strati ma non so di insidato fermentato un pochettino più compattati quindi renderlo più diciamo trasportabile dalle cocle mettiamo questo qua che però è ruotato sbagliato nel senso che deve essere ruotato dalla parte opposta nel senso che dovresti avere il punto vedete la trama deve essere a destra e non a sinistra quindi bisogna ruotare un attimino ecco qua perfetto mettiamola qua un po a caso e ora sono le trincee con le rinforzi qua in acciaio queste pareti qua ci sono state fatte in cemento tutto rinforzato ovviamente avete la trammogia che praticamente tutto quanto la parte diciamo di senelettrica qua della quantità di ricetta buttata all'interno qui invece fate rifornimento pensavo che fosse quello dove potevate buttare in droga digestato ma infatti se guardate qui non viene segnato niente per quanto riguarda il liquame o l'età mentre solamente c'è fermentato paglia fieno e erba e basta qua non accetta niente teoria no accetta ok anche le patate le biette del stesso pezzo dell'insetto fermentato a vedere se qui niente di di che poco avete toccato la parte che serve per sminuzzare un pochettino all'insetto fermentato poterlo qua all'interno la bocca che il tubo che vuole dentro tutto quando la cupola che è quella che vediamo dopo avete altre varie tramote avete anche questa acqua verde 80.000 50.000 avete che ha anche un alto costo di manutenzione quindi occhio a cosa ho comprato perché veramente costa una fracassata ecrate che roba di questo va 120.000 50.000 80.000 80.000 anche questa con la solita roba detto prima pensi sia quello poi non sono sicuro e mi raccomando perché avete anche un un biogas base che ha senso finire l'altro solamente che questo qua è un pochettino più compatto avete un altro interno un altro ancora un altro qua ancora avete poi questo qua lo vediamo dopo passiamo poi sempre alle cupole per quanto riguarda il fermentatore potete averlo in cemento oppure in lamiera a metallo ecco vedete ma ci sono varie versioni questo qua mettiamo ma di questo lo mettiamo qui a lato qua così in modo che venga fuori una cosa fatta bene con i generatori magari messi qua così andiamo a via attaccare la marea anche quello qua una cosa che non so è se tutta sta roba qua funziona quando tutto quanto insieme o funziona a sé perché a vedere mi par di no anzi forse sì perché fate vedere il costo 1500 euro al giorno di manutenzione però ti fa guadagnare 140 euro l'ora quindi penso sia una cosa a sé e che non ha molto senso perché alla fine non penso tutto quanto funzioni separatamente però vedendo questo ho il dubbio che sia così però mi sembra buona cosa un pochettino insulsa ecco sinceramente questo qua invece sono gli altri generatori per produrre energia tramite la combustione del metano che viene formato all'interno nel fermentatore poi ci abbiamo il si chiama il silo da sabatoio ecco in cemento oppure in metallo per quanto riguarda lo stoccaggio del gas che serve metano qua di tenete un paio questo qua genera 165 euro l'ora e 3000 euro al giorno infatti mettendo magari questo qua metto qua di fianco così in modo da fare un biogas fatto bene ho dato qua con tutti quanti i tubetti mi permette di stoccare il gas che poi verrà bruciato dal generatore che alla fine è già qua quindi non servirebbe un cacchio ma comunque un serbatoio in caso non ci sia bene di bruciarlo che mettiamo ormai così ero qua andiamo giù qua così qua tutto quanto la parte che riguarda la lo scarto il digestato quello che c'è anche manual digestive storage vedete questo qua c'è quello la nella fossa oppure c'è quello la in sulla cosa insomma all'aria aperta ecco e se essere una fossa è semplicemente un serbatoio vedete qua così da 900 mililitri mentre in questo caso un milione e 200 mila quindi niente male bella copiente e l'impianto questo qua è finita su voi semplicemente avete uno di parte che dà a sé un rendimento poi diciamo attenzione che costa un bel po oppure se volete far così ci sono anche quelli già prefatti da vabbè ci sono prima vediamo quella poco più grande poi vediamo gli altri questo qua il primo è da 100 kilowatt 1 megawatt mi sono sbagliato costo 1 milione e 8 e costa 10 mila euro al giorno di manutenzione questo invece da 165 kilowatt questo invece da 250 e poi già controlla osserva praticamente dove tu vai a controllare se l'impianto funziona perfettamente se la pressione è costante se ci sono perdite se i motori stanno lavorando se la temperatura è giusta se c'è la giusta diciamo gusto nutrimento giusto diciamo scambio di insomma tutto quello che serve per tenere solo controlli biogas per evitare che crei problemi anche questo qua genera 100 euro l'ora e costa 1500 euro al giorno quindi è tutto quanto ha un costo abbastanza elevato se no poi avete anche delle versioni un pochettino più compatte tipo questo qualcosa 500 euro al giorno vedete questo qua è piccolino ecco qui cioè questo vedete ha buttato dentro quello che chiede silato fermentato anche se mi parla una cosa un pochettino pietosa sinceramente avete trovato il generatore qui avete il stoccaggio per quanto riguarda la cavolo che si fa prendere essere qualche qualche parte il quando solo che si recupera poi la parte diciamo del digestato non un'idea se no poi c'è anche questo qua che anche questo qua fatirete se io vado qua mi viene mi segna che c'è un altro impianto per questa volta inizia anche la città non è stata la paglia ma accetta quei tre ingredienti la e basta patrano accetto poi vedete che c'è anche osservato ai 900 mila litri che è quello che ho posizionato prima se no c'è anche il container che anche quello la è pare che lo sia anche colorato un pianto di gas vedete che ha spuntato anche questo qua e anche lui accetta vedo no accetta solamente tre ingredienti e basta non accetta altro poi c'è un altro ancora che questo qua è fatto molto meglio secondo me molto più reale molto più ben curato che sarebbe questo qui vedete anche qua stessa cosa grazie che salvi per niente però questo qua almeno accetta sia l'etame che liquame gli altri invece non lo fanno che è una cosa mi pare un po' strana ma accetta anche le bitole e le patate quindi diciamo che è molto più versatile e molto più utilizzabile anche qua probabilmente il tasto del mouse si alza qua vedete tutto quanto la parte diciamo dove c'è la 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 gratta da vendere tutto quanto qua c'è quando la parte del fermentatore qua fuori poi ci sono qua c'è il generatore che sai per bruciare il gas e qua ricavate di stato liquido vedete vedere che anche molto ben curato molto ben fatto e tutto quanto fatto molto bene con dettagli vedete non è una cosa fatta a caso tutto quanto ben curato predisposto bene e poi ce n'è un altro che era dove cavolo è adesso poi ci sono gli altri questi qua avete questi qua enormi facciate l'ultimo quello più grande che è un ecco a parte non avere abbastanza soldi ma è una bestia però dato un piccolo problema dovete liberare il terreno altrimenti va a finire che bene fuori male io adesso ve l'ho messo qua e cosa succede qui va bene provate che tutto quanto sollevato venite a fare in modo che abbia un terreno ben livellato in modo da non creare problemi avete tornato ben fatto ben curato ogni cosa è collegata insieme tutto quanto vedete anche dettagli molto dettagliato tutto funzionante perfettamente nella questione però è che cioè se tutto funziona a sé che cavoli sensualmente tutto quanto insieme sapevo da fare non so che tipo si collegasse almeno perché qua vedo tutto quanto scollegato così non c'è vecchia ma non può dire che tutto quanto collegato sotto però sinceramente avrei fatto qualcosa in pochettino più realistica ecco però diciamo che è già alla fine neanche dato male dai quindi se qualcuno di voi interessato a questa cosa qua link a descrizione come sempre ma non vuole crescere un piccolo più gas di super maria e mandare avanti a propria azienda questo qua secondo me è molto utile o sennò ci sono quelle che ho preso ad altra volta che sono compatti e sono fatti anche bene quelli la voglio dire è veramente ottimo e fatemi sapere nei commenti se sono tutti quanti a sé o funzionano insieme perché per quanto riguarda la generazione di soldi quelli orari quello si sono tutti quanti a sé quindi in un genere per conto suo però non so poi la produzione se sia solamente sua di questo qua ho sentito due anni insieme però spero non sia così perché sono fatto un po diciamo male questa cosa va a parte che essere ancora aggiornato perché questo qua è la seconda versione che ho trovato quella prima nemmeno andava quindi fate conto voi io presento perché potrebbe essere utile poi se mai ci sono problemi fatemi sapere nei commenti mi raccomando conto su di voi quindi ripeto fatemi sapere se la moda funziona perfettamente suggeritemi qualche altra modo da presentare che non si amare troppo vecchia o che magari ma anche se ma risultate qualcuno potrebbe essere sempre utile nel prossimo video prossima live non lo so anche se penso di no perché ho pochi giochi quindi non vorrei ripetere le cose all'infinito è una prossima votata della serie cui faremo tante belle cose quindi ignoranti e spero amare a settembre qua a metà settembre di poter fare qualcosa di bello quindi della prossima vero quando potrete seguirmi grazie a tutti quanti voi per i quasi 6.000 iscritti continuate a seguirmi salire tutto quanto commentate iscrivetevi lasciate un bel like alla prossima ciao ciao